Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Giuseppe Longo, sindaco del Comune di Cleto per questa iniziativa molto importante sulla rivalutazione e la valorizzazione del Borgo di Cleto ma dei borghi in generale. Sindaco, questa sera c'è stato questo bellissimo seminario dove sono intervenuti molti personaggi importanti ma soprattutto degli insegnanti, dei docenti dell'Università di Venezia con la quale già da un anno c'è un corso di studi e si è proprio valorizzato l'aspetto storico e stilistico del Borgo di Cleto. Sì, si è creata questa collaborazione con l'Università di Venezia e quindi con una parte importante dell'Italia così lontana dalle nostre realtà. È un percorso che è iniziato un anno fa e ha dato ottimi risultati per quanto riguarda le prospettive, i possibili sviluppi del nostro board, la rivitalizzazione anche dal punto di vista economico. Io quindi ringrazio molto i docenti per il lavoro che hanno fatto, ringrazio pure i ragazzi, gli studenti e le studentesse che sono venuti ripetutamente a Cleto, e quindi hanno fatto uno studio approfondito sui vari aspetti della nostra comunità. Ma quello che mi ha fatto piacere è la presenza anche dei sindaci e tutti i sindaci del comprensorio siamo consapevoli che è uno sforzo disperato per loro necessario per far sì che i borghi che hanno rappresentato la storia e la cultura dell'Italia da tanti secoli finisca nella solitudine, finisca nella risoluzione più totale. La comunità può restare se accanto agli interventi di ripistono ci sono anche possibilità di sopravvivenza, di vita e quindi di permanenza di tanti giovani nel nostro territorio. È stata una bella serata, ma quello che mi ha pure impressionato positivamente è la presenza dell'assessore, l'assessore regionale, la professoressa Corigliano, che è venuta di slancio anche se l'abbiamo avvisata da poco tempo perché lei è molto sensibile anche per la cultura, per l'esperienza pregressa in quanto assessore, ex assessore alla provincia con l'attuale governatore, il primo Presidente della provincia di Cosenza, quindi diciamo ha le competenze giuste, la conoscenza del territorio, la serietà per poter starci vicino nei limiti del possibile, portando a conto delle difficoltà che purtroppo attenagliano la realtà nostra, regionale, provinciale, eccetera. Sindaco, un'ultima cosa, diceva anche il Professor Grandinetti, che ci sono le eccellenze dei vari borghi, dei vari territori. Quello di Cleto è molto rinomato, tra cui per esempio l'olio, pensiamo anche al vino del Savuto. è un modo per valorizzare soprattutto queste piccole attività magari locali e farle conoscere non solo a livello diciamo locale appunto, ma anche addirittura italiano, per non arrivare all'estero, perché ci si conosce anche all'estero ormai Cleto. Cleto è stato famoso nel passato per i suoi prodotti, il nostro territorio era considerato come il granaglio di diamantea, ma oltre diciamo a questo, il vino è peggiatissimo, lo conoscevano gli antichi romani, ne parla pure taccetta nelle sue opere, salutariamente, l'olio è di una qualità eccezionale, lo dicono gli esperti, non certo io che sono pure produttore ma non ho le competenze giuste, però gli esperti dicono che il nostro è uno degli oli migliori che esistono in Italia e non soltanto in Calabria, però manca l'organizzazione, manca un marchio che contraddistingue ai nostri prodotti e poi c'è questa solitudine che ci opprime, mancanza di collegamenti, credo potrebbe essere collegato meglio alle vicine realtà come Cosenza, specialmente all'interno, naturalmente è un altro passo avanti verso la stabilizzazione di quelle famiglie che sono ancora rimaste, e poi è un incentivo per i giovani che non vogliono partire. Quindi in questo caso l'appello è rivolto alla politica per migliorare la viabilità ad esempio, in questo caso davvero un passo fondamentale soprattutto per il turismo. Io ringrazio Giuseppe Longo, sindaco di Cleto, Riccardo Cristiano, Liberi TV Cleto. Grazie a tutti.